Eccoci qui per una dimostrazione pratica di quello che sono i sistemi coibentanti a compartimenti multipli EXOTEC. Ecco, intanto vediamo di che cosa si tratta. In modo molto schematico cercherò di descrivervi. È un sistema sinergico a termocompartimenti multipli nato allo scopo di ottenere per i nostri animali un ambiente che possa loro offrire condizioni di vita ideali tramite un efficace sistema altamente coibentante ideato per ingabbiare e trattenere il calore tramite una serie di termocompartimenti e dispositivi che in sinergia interagiscono a più livelli per ottimizzare i consumi energetici raggiungendo incredibili performance nella gestione di temperature, areazione e umidità. Questo appunto è una descrizione schematica. Adesso vediamo a livello pratico. Qui il termostato ha la sua bella sonda che arriva su un substrato di catture ondulato e di trenciato di legno. Rileviamo le temperature della nostra mascotte che c'è qua sotto. E' chiaro che più andiamo verso la fonte riscaldante. Quante più abbiamo le temperature che si alzano. Comunque anche qui sotto abbiamo visto che si rilevano temperature ottime per una termoregolazione di un animale tropicale. Adesso rileviamo quello che sono le temperature dell'ambiente. Ecco ci tengo a fare vedere in che situazione siamo a finestre spalancate in inverno perché siamo già a oltre la prima settimana di dicembre. Questo serve per farvi capire un sistema a compartimenti multipli che efficacia possa avere se fatto con i criteri giusti. Ossia la struttura stessa del terario dell'exotech è in polimeri plastici anche nelle parti trasparenti. Per cui la coibentazione rimane. Non perdi calore dalle parti trasparenti perché non si tratta di vetro appunto. Alla base interna di questa gabbia di calore c'è installata una cornice sotto le quattro pareti di un centimetro su cui è sospesa una tavola, un pannello in policarbonato alveolare. Si crea un'intercapedine di un centimetro dentro cui è racchiusa la piastra riscaldante che distribuisce tutto il calore per il vano appunto alto un centimetro, fin sotto le quattro pareti. Questo ti permette di avere un animale che si riesce a termoregolare ovunque per cui non deve per forza rimanere tutta la stagione fredda a impigrirsi sulla piastra ma può trovare temperature idonee anche in tutte le altre zone. L'altro termocompartimento è costituito dagli alveoli del pannello in policarbonato stesso che essendo cavi trattengono ulteriormente il calore all'altezza del substrato. Inoltre esistono questi feritoie con installazioni che permettono la regolazione del flusso dell'aria per cui volendo in casi veramente estremi possono essere limitati i passaggi dell'aria, il flusso dell'aria sia in uscita come per caso che in entrata e mantini comunque se vengono chiuse totalmente queste feritoie e appena lasciate aperte le altre rimane comunque sempre un piccolo passaggio d'aria in tutta la luce della finestra dell'exotech. Bene, questa è una piccola descrizione che serve per farvi capire quanto sia efficace un sistema sinergico a termocompartimenti multipli di questo tipo. Tra l'altro non è solo un discorso di benessere per gli animali ma anche il nostro portafoglio perché in situazioni normali è comunque vantaggioso avere delle strutture che in breve periodo si ripagano da sole con quello che ti fanno risparmiare. Bene, vi saluto e vado a chiudere le finestre e mi tolgo il piumino. Salve a tutti!